E adesso un oggettino di utilità da parte di Petzl, un moschettone fantastico, il Vertigo Wirelock. Beh, questo nasce come moschettone per agganciarsi con le launch durante le vie ferrate. Se avete mai affrontato una via ferrata, sapete che è molto comodo avere un moschettone da agganciare molto velocemente e che potreste trovarvi nella condizione di fare questa cosa qui. Ci sono tanti tipi di moschettoni, sembrano tutti uguali e invece sono molto diversi, ognuno con le sue caratteristiche. Ad esempio, nonostante la semplice applicazione del Vertigo, vedete come lo apro con una mano sola o volendo con un po' di astuzia posso fare quella cosa che vi dicevo, quindi agganciarlo direttamente, beh, è un moschettone bloccato. Comunque ha il suo Wirelock. Il Wirelock impedisce al moschettone di aprirsi. E perché? E perché ragazzi potremmo trovarci nelle condizioni di vari agganci, varie situazioni in cui qualcosa preme per liberare il moschettone. Ecco perché molti moschettoni sono bloccati per non aprirsi se non quando lo decidiamo noi. La forma poi è particolarmente, lo vedete anche nella mia mano, particolarmente comoda in questo caso. Posso fare così, posso fare in questo modo, posso chiaramente anche prenderlo così, dal cursore laterale. Ognuno poi adotterà il sistema più comodo a seconda del tipo di comodità che gli fa comodo. Torna utile anche durante i trekking, i cammini e le escursioni. È una buona regola, anzi una regola fondamentale, quella di non lasciare lo zaino in terra per tanto tempo, soprattutto per la notte, eccetera, eccetera. Quindi lo appendiamo tutti sugli alberi. Appendere lo zaino l'albero è semplice finché hai un bel moschettone comodo con cui agganciarlo. Eccolo qui. In questo modo da una parte hai il cordino e dall'altra tutto lo spazio per agganciare uno zaino con il suo maniglione senza comprimerlo o rovinarlo. Insomma è una delle soluzioni che preferisco pure perché mi permette di giocare così tutta la sera in tenda e farmi cacciare dalle avventure. Il Vertigo Warlock lo trovate insieme a tanti altri moschettoni di Petzl e anche di altri maschi sempre su Backpack.it